Andiamo a Shikoku! Oggi giochiamo a Tokaido Duo! Ciao a tutti giocatori e semplici curiosi! Noi siamo Giullari come ogni lunedì e mercoledì siamo qui per proporvi un nostro gameplay che quest'oggi è stato sponsorizzato da Mancaramaro! E oggi vi portiamo nell'isola più piccola del Giappone, delle quattro isole del Giappone, qua tutta la mia cultura geografica orientale non solo esploderà, perché pur essendo un'isola molto piccola però pullula di attività e nel gioco è rappresentata questa attività che c'è nell'isola, in quanto abbiamo mercanti che vanno in giro con i loro gingilli per cercarli di vendere, abbiamo i pittori che osservando il panorama non perdono l'occasione di apprendere, imparare qualcosa, abbiamo i pellegrini che girano per i vari templi a onorare... Le divinità che loro proveranno all'interno di questi templi perché abbiamo scoperto, proprio così facendo ricerche online, che ci sono tantissimi templi, c'è proprio un pellegrinaggio, sono 80 templi... C'è proprio il pellegrinaggio che devono fare, i pellegrini che circunnaviga, cioè che delimita tutta l'isola, sono 1200 chilometri... Tutto a piedi, sali... Tutto a piedi... Comunque viene anche ripresentato anche all'interno di Tocchio 2, che come vedete apparecchiato è già pronto e ognuno di noi avrà dal suo lato della plancia i tre personaggi con i quali farà punti vittoria E noi infatti avremo sia il nostro mercante che il nostro vittore che il nostro pellegrino, ognuno si muoverà in una zona diversa della nostra isola e ognuno farà punti in modo diverso Avremo il nostro pellegrino che farà punti visitando templi e giardini, avremo il nostro mercante che farà punti vendendo le merci che dovrà però prima salire sulle montagne per ottenere, per poi vendere nei porti che si trovano tutto attorno all'isola Tra il pittore che si muoverà nelle varie zone cercando ispirazione anche dalle altre figure li presenti per poter dipingere e poi regalare i suoi dipinti al fine di fare punti Noi siamo pronti ad iniziare, come vedete le nostre pedine partono già in alcune posizioni della mappa determinate proprio da setup, dal tabellone E abbiamo anche messo giù casualmente le tessere sui porti che indicheranno quanto le possiamo vendere, le tessere litorale che ci daranno dei bonus che variano di partita in partita E chi inizia inizia chi si trova con le proprie pedine più vicino alla bussola, quindi inizierà il giocatore viola che è Vale Vale prende i tre dadi, li lancia e ne sceglierà uno dei tre per utilizzare quel personaggio e muoverlo del numero di passi indicato sopra il dado In questo caso Vale adesso può scegliere se muovere di due il pellegrino, di tre il pittore o di tre il mercante Ognuno dei nostri personaggi si muoverà in un modo diverso, si muoverà utilizzando dei sentieri diversi e vedremo che cosa succede Allora io inizio con il mercante Perfetto, quindi Vale seleziona il dado arancione del mercante, se lo mette da parte può fare tre passi col mercante Il mercante, che è quello, la figurina con lo zainetto in spalla, si muoverà sempre e solo sulle rotte mercantili, ovvero le tratte gialle Non si può fare avanti e indietro per ritornare sulle caselle dove siamo già passati Quindi Vale va e si muove di esattamente tre, non fino a tre Uno, due, tre Se con il movimento un mercante termina il suo movimento in uno dei villaggi in montagna, quindi le zone gialle al centro della mappa Quello giocatore potrà pescare dal secchetto tante merci quanto è indicato dal numerino accanto, in questo caso tre Tra l'altro su questi spazi come vedete sono circolari, sono divisi a metà da quella linea bianca tratteggiata Questo perché i mercanti di entrambi i giocatori possono stare nello stesso villaggio in montagna ma non potranno stare nello stesso porto E Vale trova così una camicciola e due ventagli Io adesso senza rilanciare i dadi sceglierò se muovere il pittore oppure muovere il mio pellegrino Io ti dirò, allora, visto che il pellegrino ha questo due, io partirò deciso col pellegrino perché farà due passi Il pellegrino si muoverà sempre in senso orario, sempre sul bordo esterno della mappa Proprio per circunnavigare, che non è circunnavigare ma circuncambinare l'isola E farà esattamente due passi Sulla posizione in cui si ferma, in questo caso è una posizione azzurra del litorale Se quella casella fosse stata occupata da un mercante in caso di un porto o da un altro pellegrino Viene ignorata e saltata ma solo la casella di arrivo In questo caso io posso venire a prendere sulle caselle litorale Una delle tre tessere al litorale, sono tutte e tre fronte retro con abilità diverse Che ci daranno un'abilità legata a uno dei tre personaggi Io prenderò quello del mercante che mi consentirà di fare più uno più uno Che significa, tra l'altro magari se gliela assegno al mercante è meglio Significa che quando con il mercante andrò a prendere risorse ne potrò pescare una adiuntiva Inoltre ne potrò tenere un'aggiuntiva Quindi mi viene sbloccato il sesto spazio Questo perché di norma senza questa tesserina Che potrebbe anche non esserci in partita o stessimo usando un altro lato Abbiamo un limite di cinque risorse che possiamo portarci appresso per essere vendute Il terzo e ultimo dado, tre passi col pittore, li farà vale Il pittore si muoverà tra le zone comprese dalle rotte navali e del bordo Quindi si muoverà all'interno delle zone Io faccio Di tre spazi Uno, due e tre Bellissimo perché una volta che arriva il giocatore, il pittore guarda su tutto il bordo Diciamo che delimita la casella su cui si trova Quante figurine ci sono in totale In questo caso ce ne sono tre perché c'è questo mercante C'è il mio pittore No, no, c'è solo il tuo mercante Ci sono due mercanti Quindi ce ne sono solo due Scusate, mi era vicino, mi ha confuso Il pellegrino non c'è perché si trova già nella zona successiva Quindi Vale potrà dipingere due dei suoi quadri Quando si dipingono quadri si va a guardare sulla plancetta del pittore Si ribaltano Rivelando cosa c'è sul lato opposto al pennello Tanti tesserine partendo da in alto a sinistra Andando verso il basso a destra Appare il numero di personaggi che si trovano lì Quindi due Una E due Per adesso Vale quindi ha dipinto una cascata e una montagna Si è fatta ispirare Buonissima E poi potrà andare a regalarle Abbiamo finito il round e quindi i dadi passano all'altro giocatore Che li lancia E avanti così E avanti così Allora pellegrino di quattro Che potrebbe non essere male Il mio pittore di uno potrebbe essere ancora più bello Perché vado a dipingere tre Ho il mercante di due Dove potrei anch'io venire a prendere cose Ne prenderei addirittura una aggiuntiva Tu col mercante di due vai a venderti quei ventagli Quindi potrai volerti togliere il mercante Allora io ti toglierò il mercante Quindi mercante di due Anche il mio mercante che partiva di qua fa due passi Fa uno e due Viene proprio qua dove c'è Vale Come abbiamo detto si può fare Non so starmi lontano Non so starle lontana E anche io pescherei tre merci Ma grazie alla mia abilità ne vengo a pescare quattro Se voi avete già merci e ne pescate Potete pescare tutte le merci che volete Anche se andate oltre il vostro limite di cinque O nel mio caso sei E solo una volta che le avete pescate tutte Scegliete quali tenere per rientrare al vostro limite Io posso tenere tutto Anche io sono impaccato di ventagli E trovo una bottiglia di vetro I ventagli saranno quelli meno remunerativi Ma ce ne saranno di più Le camiciole sono quelle più remunerative Invece ce ne saranno di meno Dai io prenderò il pittore di uno Vale prendere il pittore di uno Peccato perché a me muovermi qua col pittore E infatti per quello Ma io mi muovo di uno E decido di venire proprio qua Sono le cascate Ok Dalle cascate Quindi Vale ora ha l'opzione Con ognuno dei nostri omini Con il mercante e col pittore Quando ci muoviamo Poi scegliamo cosa fare Nel caso di Vale Cosa vuole fare? O al dipingere Girerebbe una nuova tesserina Perché nella sua zona In cui c'è C'è un'altra persona Oppure Visto che ha già dei dipinti fatti Può scegliere di donare Quei dipinti Nella zona che l'ha ispirato Siccome in questa zona C'è il simbolo della cascata E il primissimo quadro Della sua fila Alla cascata Allora Vale lo può regalare E io decido di fare quello Scartarlo Per rivelare i punti vittoria Indicati sotto Che sarà il punteggio Che le dà il pittore In questo momento Io ancora Quattro passi da fare col pellegrino Uno, due, tre E quattro Mi fermo in un giardino Quando il pellegrino Si ferma in un tempio O in un giardino Le caselle rosse O le caselle verdi Fa avanzare Il tracciato corrispondente Di uno spazio E la moltiplicazione Dei valori raggiunti Dai tempi visitati E giardini visitati Saranno i punti Che darà Il nostro Il nostro pellegrino In questo momento Due per uno Due Finito Ok Vale Ma faccio sempre dei chili Mamma mia Valentina Bellissimi Cara Valentina Bellissimi Il tempo Non fa il suo dovere Allora Con uno Cioè brutto eh Uno del mercato Mamma mia Io prenderò Due Del pellegrino Faccio uno Due per venirmi A prendere Una testela Delle terme Il tuo pellegrino È qua però Qua Uno due Ah Ok Non mi ero accorto Che l'avessi mosso Scusami Uno due Cosa fai? Ma l'hai mosso Quando? Adesso Ho preso il dado E faccio due Non ho visto Non ho visto Tu che muovevi La pedina Infatti lui era ancora In partenza Non l'avevi ancora mosso No Fai due passi Aiuto Aiuto Nella mia testa A tu O io Cosa hai scritto Non so perché Pensavo che volesse Muovere questo E dicevo Ma non puoi muovere quello Quello è il pitto Scusatemi Ce la faremo Prima o poi Vale si muove qua E raggiunge le terme Quando si raggiungono le terme Che succede? Che Vale Ottiene Il gettone Delle terme Se questo gettone Fosse stato in mio possesso Me lo veniva a rubare Non può usarlo Immediatamente Ma lo potrò utilizzare Dal prossimo turno E le terme Cosa ci permettono di fare? Lo scoprirete Quando Vale Sceglierà di usarlo Allora io O vengo Col mercante A Prendere altre merci Fondamentalmente Potrei venire qua Pescarne quattro Tipo Cercare tutti i ventagli Sì hai due spassi Venderle in una volta Tutti Sì però Ne ho tre Perché in realtà Ho queste Sì due Dice Non mi conviene Facciamo il pittore Va Vabbè Vuoi pescare tu? No Tu vuoi vendere cose? Oppure io uso questo E vado a vendermi Quell'unica bottiglia Mi sembra spreca No vabbè Non è che sei obbligato A usare il più uno E che tu con l'uno Del pittore Ne giri altre Posso pescarne tre Ne peschi due Posso pescarne quattro Sì no Ho capito Ho capito Ho capito Non confondermi Che oggi sono già Abbastanza confuso da solo Muovo il pittore Cui attorno ci sono due personaggi Ne giro due Quindi mi è rimasto Il mercante uno Il mercante da uno Con cui Non puoi vendere nulla Non posso fare niente Vado a pescare Guarda Tu sei viola No sì Questo gioco per noi Ha un grosso problema Per me Primo problema Non c'è il giallo Quindi io non so chi sono Mentre gioco Secondo problema Ci sono il viola e il verde Che sono i due colori Che usa Vale In modo alternato Quindi Vale Pensa di star giocando da sole E poter muovere tutti i pezzi Mentre io non so cosa toccare Quindi Poi non capisco cosa Vale muove Quando prende i dadi Siamo rovinati oggi Uno Scusate Quindi pesco Tu dovrai pescare tre Ma io ho solo più due spazi Però Vale comunque ne pesca tre E poi sceglie cosa conservare Volendo anche tutti i tre Che ha appena tirato su Se no Butta via cose E va Tengo uno e uno Ok Sicura Non ti conviene Buttare via la camicia La camicia Sì Tanto vengono uguali Sì Voi potete appunto come vedete Pescate tutto quello che dovete pescare E poi scegliete che cosa tenere Comunque abbiamo finito Tiro io i dadi Volevi già usare Stavo guardando se riuscivo Tanto non era Non l'hai appena preso questo turno Quindi non potevi ancora Da adesso Vale potrò usare il gettone delle terme Ah tre Bene Perché io potrei fare Ah questi sono dei tiri A parte il pittore che continua a fare un po' di Un po' di Un po' sbogliato Guarda io faccio due Con il mio pellegrino E vengo ad aumentare anche i tempi visitati In questo momento sono diventati due per due Quattro punti Vale Allora il mercante ha un Tre Il mercante ha un tre Due Tu sei un po' a metà Due Uno due Uno due No il mercante tre Puoi venire qua Ma non hai Non ho niente Dai pittore uno Ok Veniamo a questo punto Ti seguo Ok Per girare due tessere D'accordo Io che ho tre passi da fare con il mio mercante Potrei fare Due e tre Eh io farò questo qua Anche se non mi piace tanto Uno due E tre Quando si raggiunge un porto con il mercante Il mercante può vendere le merci richieste da quel porto Se le ha con sé Guadagnando un quantitativo di monete Pari a quanto indicato In questo caso sono due monete per ogni ventaglio che noi diamo via Io do via tre ventagli Quindi sono sei monete Le merci vendute arrivano immediatamente nel sacchetto E io conservo le monete Come fa appunto il mercante? Ancora non ve l'abbiamo detto Il mercante come indicato anche sulla sua plancia Ogni qualvolta ottiene dieci monete Le converte immediatamente con una piastrina d'oro E ogni piastrina d'oro Più ne avrà più punti gli daranno Quindi adesso possiamo dire anche come finisce la partita Perché l'hai già detto come finisce la partita No l'ho ancora detto come finisce la partita La partita finisce o quando il tracciato dei templi Arriva al fondo O quello del paesaggio Il paesaggio arriva al fondo O quando abbiamo riempito Tutta la parte qua del mercante Con le piastrine O quando abbiamo regalato tutti i nostri dipinti Quando una sola di queste condizioni Di uno o qualsiasi dei due giocatori Avviene Immediatamente si finisce quel round Finisce immediatamente la partita E si contano i punti Sommando i punti che ci forniscono tutti e tre I nostri amicici dell'anno 2000 E tocca a me tirare Tu hai fatto tutto? No no Io ho fatto questo Io ho fatto il mercante E tu devi fare il 1, 2 E vale avanti sul tempio Vuoi usare le terme? No Perfetto E vale l'ostriere le terme E quindi tocca a me tirare i dadi Allora Che mi guarda sempre Appena dice qualcosa Perché non è più sicuro di niente Non sono più sicuro di niente Pittore che mi può fare Mi No Allora facciamo che io prendo il mercante Faccio 1, 2 passi Torno a pescare 3 Grazie a questa ne pesco 4 E speriamo di prendere tante bottiglie Perché chiaramente se avete tutte le robe uguali È più facile fare delle vendite performanti 4 cose prese Quante camicia Quante camicie Io faccio il mio pellegrino 3 1, 2, 3 Così Avanzi qua Vuoi usare le terme? Voglio usare le terme 1, 2, 3 No Ti riprendi le terme Io Quindi pittore 2 Faccio 1 e 2 Ho 2 vicini Non posso dare via Qua io potrei dare via La montagna Il vulcano Ma la mia prima è la cascata Quindi non posso Non ce l'hai Quindi scelgo comunque di rivelarne altre 2 Ok Ok Ricordatevi che potete sempre solo regalare quella della tessera più in alto o più a sinistra che avete Mercante Stiamo di nuovo a 1 E stiamo di nuovo con il mercante 3 che Che a te non serve granché Il mercante 3 no Di come sei messa no Voi potete anche con il mercante muovervi Raggiungere magari un porto di cui non avete merci Non venderete nulla ma comunque vi siete spostati E ricordatevi che il porto è una casella che verrà condivisa sia dal mercante che dal pellegrino Quindi nel caso in cui la casella del porto abbia già sul pellegrino il mercante non ci può entrare Se c'è già il mercante il pellegrino dovrebbe passare lo salta se dovesse fermarsi su quella lo salta comunque e attiva la casella successiva Non è ancora capitato ma se il pellegrino si ferma su un porto ottiene immediatamente le monete come se stesse vendendo una merce di quella richiesta Ottiene quel quantitativo di monete Quindi anche col movimento del pellegrino voi potreste raggiungere le 10 monete necessarie all'arcante per reclamare una tessera Allora Dorata Prendiamo questo Grande Faccio un passo Ok e prendi quindi 3 monete esattamente quello che ho appena spiegato 1, 2, 3 Perfetto Uso questo Ok vale scegliere di usare la tessera delle terme La tessera delle terme a cosa serve per immediatamente dopo aver scelto utilizzato un dado muovendo un personaggio e attivando Quel personaggio nel posto in cui è arrivato per rifarlo immediatamente Entrambe le cose movimento e azione quindi vale fa un altro passo in questo caso prende uno delle terme Io faccio 3 con il mio mercante per fare 1, 2, 3 Venire a vendere per 4 monete ciascuna 3 camicuole Quindi sono 12 monete quindi ne prendo in realtà solo 2 E con le altre 10 le converto immediatamente in questo e sono 5 punti E col mio pittore 1 Allora io qua ho le montagne che sono là Quindi facciamo che vengo che ne so facciamo che vengo qua 1 così ne giro comunque una Una comunque la giri Una comunque la giri E tocca a te E grazie No tocca Sì perché hai finito tu quindi tu ne hai presi 2 Toccava a me Allora 1, 2 e 3 Quello non è male Il pittore che mi fa 1, 2 riesco a consegnare Il mercante mi fa 1 Mi permetterebbe di pescarne 5 Potrebbe non essere brutto Dai io mi prendo il mercante No che pizza Vengo qua ne posso pescare 4 più 1 dalla mia abilità 5 Io comunque ne pesco 5 anche se ho solo 4 slot 1, 2, 3, 4 Che brutte tutte E 5 Io non so Non ho trovato Eh ma non ho trovato Eh vabbè Tengo ne posso tenere 4 Tengo queste 4 Speravo di trovare delle bottiglie Certo Così facevo una vendita Io anche speravo che mi lasciassi il mercante Ma è la speranza Tu farai più punti con altre cose Anche se io magari farò più punti con il mercante E magari vinci 1, 2, 3 E fai 3 monette Fai 3 monette E ma è pure bloccato lì dove io potrei vendere poi le mie bamboline Tu hai un pittore 2 E quindi a me rimane il pittore da 2 che farà questo Farà 1 e 2 E viene a consegnare questa cascata facendo i suoi primi 2 punticini Se voi lasciate 1 a 0 Quel personaggio vi darà 0 punti e non vi conviene farlo Perché quando tocca a me il mercante fa sempre solo 3 Eh la vita Valentina Le parei Un po' storta Un po' dritta Mi fosse tenuta la camicia Eh Pensa Pensa Allora il mio pittore dov'è? 1, 2 1, 2, 3 Meno come fa un pittore No non era così la canzone Dai prendo il pittore 3 E gli faccio fare 1, 2, 3 Così vengo a dare via Una montagnetta Ok Io faccio 3 con il mercante che farà 1, 2 e 3 Vendo ogni mia bottiglia per 4 Quindi sono 4, 4, 8 Più 2 fa 10 Mi prendo un altro di questi E un passo del pellegrino Che vieni qua e aumenti il tuo tracciato delle cose Comunque vale c'è già 8 punti da lì E quindi ti stai lamentando tanto ma stai facendo un sacco di punti con gli altri Non ne so 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 tanto tanto Che a me Il mercante 3 Allora uno Del mercante Guarda ti lascerò questo mercante 1 Grazie Mi sa perché a me proprio non serve Potrei andare là O potrei venire lì a dipingere due O potrei andare lì a consegnare un quadro Quindi tanto tu prenderai quello Sono sicuro Quindi io faccio 1, 2 e 3 E aumento di uno il tracciato dei giardini Vale puoi scegliere il pittore No voglio il mercante 1 Così vale Va là E può consegnare 3 6 9 9 E 1 Più una che già aveva fa 10 E anche vale per la sua praccetta Ah La volevo anche io Io faccio ancora un passo col pittore Dove o vengo qua e ne dipingo due O vengo qua e consegno questa E sono 4 punti Prego Come fa un pittore No ma quello penso che fosse come fa un piccione Credo che fosse la canzone Povia mi pare Certo che è come fa un piccione No però c'era una canzone di come un pittore dei modà Che salutiamo Ciao Checco Io di nuovo montagne Era il mio pittore Allora Un tappeto di fragole Quelle cose lì che dove cantano i modà Vengo Però non me la ricordo bene Qua Faccio Ah e quindi anche Vale si può prendere una tessera litorale Non ve l'abbiamo detto Ma non può rubarmi quella là Siamo obbligati prima a completare le tre tessere che sono lassù Se lassù non ci fossero più tessere e ci fermiamo su un litorale Possiamo andare a rubare una tessera ad un altro giocatore Chiaramente spostandola sul nostro stesso personaggio Dai prendiamo questo qua del pittore Ok vale con quella tessera del pittore ogni volta che dipingerà Ne dipingerà una in più Come se ci fosse sempre un personaggio in più E' giusto per dirvi quella del pellegrino Più uno o meno uno sui passi Non importa quali sia il lato In entrambi i casi qua è meno uno E' facoltativo Non siete obbligati a fare un passo in meno Potete fare un passo in meno Allora Pittore Che mi fa girare una O mercante che mi fa pescare quattro Che non è che mi servano così tanto Quindi Facciamo però mercante che me ne fa pescare quattro Ti serve così tanto E pittore me ne fa girare solo Dai pesco quattro Perché vengo qua Tre più con la mia abilità Pesco quattro Spero di trovare Non due bottiglie e due ventagli Via Uno due tre E quattro Quindi butto via i due ventagli Mi tengo una bambolina e una camicina E via Guardatevi io posso tenerne sei Perché ho quell'abilità Certo Se questo gettone fosse stato sull'altro lato In cui quando vendiamo guadagniamo uno in più Per ogni vendita che facciamo Molto bella Molto Velocizza molto il mercante Avete comunque il limite di cinque E per quella partita non ci sarà la possibilità di conservare sei Allora io ho pittore uno Quindi vengo qua E giri una Due Più la sua abilità Ne giri tre E già E già E già E siamo qua Oh ma che brutto In quest'ordine Dai tantissimi Le tessere Non ve l'abbiamo specificato Ma le mettiamo giù casualmente Le tessere pittore Quindi non sappiamo poi in che ordine Le dovremmo consegnare E se non è che se io ho tre lune Di seguito vado sulla luna E le do via tutte e tre Eh no Una per volta Allora io ho tre passi del mio mercante Che farà uno, due, tre E verrà a fare quella consegna E basta Uno, due, tre Consegno Quattro, otto Dodici Quindi mi conservo solo due monetine E prendo una di queste E via E boh E tutto fatto Quindi vale Vuoi due passi col pittore O due passi col pellegrino E salutiamo Andrea Pellegrino Che veniva all'elementare con me Ciao Andrea Allora facciamo Non so perché mi è venuto in mente Era penso 30 anni che non pensavo Due passi col pittore Così faccio Uno, due E regaliamo questa mia bellissima montagna E io quindi faccio due passi col pellegrino E avanzo questo Ora non potremo più giocare a Tukai Dodo Senza pensare ad Andrea Pellegrino Eccoli va Uno, tre, uno Facciamo tre passi col pellegrino Ok Uno, due, tre E aumentiamo qua Allora Che noia Ma ora il mercante Siamo di nuovo lì Che pesco tante tessere Però Guarda facciamo uno col pittore Venendo in Io poi devo consegnare delle lune Quindi venendo in qua E ne dipingo una Perché c'è l'altro pittore No no Io col mio mercante Uno Vengo a pescare Tre Che posso tenere tutte Ok Tiro io i dadi Quindi Allora Due mercante Tre Pellegrino Uno Pittore Allora con l'uno del pittore Vengo a consegnare E non è male Però col due del mercante In realtà io farò quello Perché così faccio Tac Tac Consegno Per tre Sei Nove Più una monetozza Fa dieci E mi prendo questa Ma stai calmo Eh ma Con quella lì Mi ha Prendendola Come Tipo proprio inizio partita Quella tessera Mi sta facendo spingere su quello In realtà però Io poi ho nove punti Col pellegrino Sì vabbè ma E solo quattro punti Con il pittore Quindi non credo Di essere poi messo Bene Tu quello Dove sei messa peggio Sei messa a cinque Io sono messo a quattro Quindi tu sei messa meglio di me In questo momento Allora Facciamo Due Tre Devo fare ancora Venti monete In realtà Di meno Tredici Allora Faccio pittore uno Ok Vengo qui E via Ok E io Tre passi del pellegrino Uno Due E tre Hoppa là Ho visitato un altro tempio Dammi Qui Uno del mercante Tre del pellegrino Tre del pittor Uno del mercante Come sei banale Eh madonna Non lo faccio mai Nooo Quattro Otto Io facevo tre passi col pellegrino È occupata Quindi la ignoro Mi fermo su quella successiva E attivo quella successiva Sono tre punti Cos'ho Tre passi del pittore Che ha bisogno della luna Uno Due Tre Vale Consegno una luna Tu stai facendo Già un po' troppo La furbetta Io Se tu che stai vendendo Più non posso Allora O vengo a usare il mercante Per tirare su roba Ma no Due E tre Avanzo lì Tre col pittore Uno Due Riesco a consegnare la luna Sì Uno Due Tre Riuscirei a consegnarlo Ma guarda Io faccio tre Con il pellegrino Uno Due E tre Avanzo qua E quattro Così mi vale Cinque punti Prendendo questa azione Prego Guardatevi Basta arrivare alla fine Di uno dei personaggi Nel caso del pellegrino Alla fine di uno Dei due tracciati Non alla fine di entrambi Due Quattro Ok Che con questi sei Ti danno diretto A prendere Uno Te l'ho fatto Ah grazie Con questi Mi tocca Fa C'è scritto qua Non è che Tre passi col pittore Quindi facciamo Un due e tre E vengo a consegnare Questa Stasera La luna Prego Ci portiamo Tera fortuna La luna nera Che prego Tre due uno Puoi scegliere tu Cosa a fare Faccio Due col pellegrino Ah Annaggia Io Allora O faccio uno col pittore E consegno Però tu tre col mercante Ti vai a pigliare tanta roba Farò io tre col mercante Ma sì dai Uno due e tre col mercante Vengo a pescare quattro 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 camice Guarda Quattro camice Uno due No Allora che io con un pittore Tre quattro Una camicia Va bene Uno due In realtà avere più varietà di merci Ti permette di Ti va bene un po' qualsiasi numero col mercante Io ho un pittore Vengo qua Ce n'è solo uno Ma è leggero Ne dipingi due Quindi Vale ha dipinto tutto Quindi Vale ora D'ora in avanti Col pittore potrà solo più regalare cose Se le regala tutte Finisce la partita Con quel stop Io devo fare ancora No tu hai fatto Perché tocchi Allora io ho fatto Non so c'era questo qua Io ero in questa situazione È finito Io devo tirare i dadi allora Sì Stai calma perché tocchi C'è delle cose davanti È molto zen No non più Non più Allora un passo col pellegrino Vi vedo la differenza degli altri Cioè almeno per noi È molto più una cosa Io faccio un passo col pellegrino Dove vengo a prendere tre monete dal porto Che con le sette monete che avevo Fa esattamente dieci Boom Peccato che non ho merci Per fare un'unica vendita da dieci Se no lo chiudo così Che poi non è detto che ho vinto Non sto guardando quanti punti ha Vale Per capire se chiudere Se fare Se non fare Io ho fatto il pellegrino Tuoi queste due Te li lascio davanti Così questo lo nascondo Così non ci confondiamo Mettiamoglielo sopra Quindi sappiamo che lui ha fatto Allora io vengo a fare Un pittore Dai vengo Ok E Vale consegna E altri punti per lei Allora io ho tre di merci E faccio uno, due e tre Per fare quattro monete Oppure vengo a fare Sì Non ho altre grandi opzioni Uno, due e tre Vengo a vendere questa camicuola E fare quattro monetozze E quindi sei monetozze Vale Basta che facciamo le tozze E tocca a me tirare i dadi Eh sì Tocca a te tirare i dadi Perché io ho fatto due azioni Allora Un pittore non mi serve Meno come fa un pittore Un mercante Tu sei lì Quindi a te Se ti lasciassi un mercante Se mi lasciassi un mercante Verrei a pescare tante cose Che Però poi dopo rimanate Tanto poi dopo tu hai un mercante Quindi Io dopo prendo un mercante Ho un mercante che deve essere Esattamente di tre dopo Per riuscire a fare qualcosa Eeeh Vabbè Prendo il Pellegrino Ok Che mi fa Uno, due, tre Mi da tre soldini Ah e mi blocchi quella Tra l'altro Faccia di Flaunz Aunz 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 Un pittore ha bisogno della luna Due, tre, quattro e cinque Allora Teniamo ste due bamboline E teniamo sto ventaglino Ok Ventaglino che in realtà Si Ok Perfetto Vai Un pittore E niente Lo sposto Lì Ok Quindi Tocca mi tirare i dadi Io poi non so E se sto Facendo cose Uffa Solo uno con sto mercante Ma siamo seri Faccio un Guarda Faccio un passo con lui E Eeeh Avanzo su questo Con comunque quattro punti Prego Quindi Ho mosso il pellegrino Un pittore E quindi Io devo muovere lui E a sto punto Tac Non l'avevo visto prima che lo potevo fare Stato scemo Posso vendere le due bamboline Anche io l'ho visto E tre A me fare il mercante Non mi serviva niente Tre Tre Sei Più questi quattro Fa dieci Butto lì questo Ed è finita la partita Perché si finisce il round in corso Che è finito Visto che questo era l'ultimo dado E contiamo i punti Quindi Vabbè Quello avrei potuto prendere Come prima azione Non me ne sono accorto Ma neanche Ma tanto a me fare il mercante Ero convinto di dover andare Ero convinto di dover andare qua O qua O qua Che potessi arrivare lì Non mi serviva niente Era meglio sbloccare questo Certo E adesso contiamo i punti I punti come si contano Andiamo a sommare i punti Che ci dà ogni personaggio Ricordatevi il pellegrino Moltiplicate il valore raggiunto Del tracciato del tempio Con il valore raggiunto Del tracciato delle messe E lì si è avanzato un sacco poi Hai fatto uno sprint Io faccio 45 punti dal mercante Più 7 Sono 52 Poi qua ho 6 per 4 24 52 più 24 Sono 76 Giusto? Non lo so 52 più 24 Sono 76 Io mi fermo a 76 Allora Io ho 15 più 18 15 più 18 Sono 33 Più 23 Sono 56 Vittoria di Alberto Oh 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 Tiffany Vittoria di Shikaka Non me lo ricordo vai sto nome Vittoria di Shikaka No Quindi è stata conquistata Shinkoku 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 È stata Rionfare Un mio ricchissimo Mercante Che va in giro Impaccato di Piastra d'oro Neanche fosse Un rapper Americano Partito un po' sballato Esatto Un po' così Ma Ce l'abbiamo fatta Dalle lunghe passeggiate attorno all'isola Prendere aria L'aria salmastra del mare Un attimo a riprendere E questo signor e signori Aratokaido 2 Il gioco che vi ricordiamo è già disponibile Trovate un link qua sotto in descrizione Dove poterlo acquistare Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia Vi ricordiamo che qui a casa Giullari Si gioca per giocare I Giullari vi salutano E che il gioco sia con voi Ciao Ciao